E' stato un primo grande abbraccio quello dei tifosi rosanero al Palermo, Kip Coleman tutti al barbere, lo slogan della nostra campagna abbonamenti ed oggi i nostri sostenitori sono accorsi davvero in massa. Oltre 5.000 i tifosi che hanno assistito alla prima seduta degli uomini di Giacchini dopo il ritiro svolto tra Bad, Klein, Kierkaim e Storo. C'è da preparare la sfida contro il Modena, il primo impegno ufficiale in Team Cup. Ieri i gialloblu hanno battuto il Monza nel secondo turno eliminatorio e invece sfideranno il Palermo in quello che sarà il primo impegno ufficiale della formazione. C'è Rosanero che oggi ha preparato la sfida contro la squadra di Novellino con delle esercitazioni di carattere atletico e tecnico, tanto entusiasmo dicevamo. I nostri sostenitori hanno assistito alla seduta con grande calore, con tanti cori, dimostrando davvero il grande attaccamento che continua a esserci, il grande feeling tra la città e la squadra. All'allenamento hanno assistito anche Francesco Sancarlo e Valeria Mico, vincitori del social contest Miss e Mr. Rosanero che hanno potuto osservare da vicino la seduta degli uomini di Giacchini e in particolare hanno ricevuto una maglia con lo slogan della nostra campagna. Domani il Palermo proseguirà gli allenamenti in vista della sfida contro il Modena con una doppia seduta al tenente onorato.